Fino al gennaio 2018 il Museo delle Mille Miglia ospiterà la mostra 90 anni Mille Miglia, la prima esposizione di auto delle vetture che presero parte alle Mille Miglia. Un racconto reale e interattivo che accompagna il visitatore in un percorso fatto di storia ed emozioni autentiche. Ai nostri microfoni Vittorio Palazzani, presidente del Museo Mille Miglia. Noi quest'anno come Automobile Club celebriamo 90 anni di storia. Mille Miglia ne compie altrettanti. Il Museo Mille Miglia è un museo che vede come socio fondatore l'Automobile Club. La circostanza che venga celebrata con questa mostra, la Mille Miglia, ma in particolare io citerò anche a distinguere questo dato e centrare l'attenzione, le automobili che hanno corso la Mille Miglia. È un passaggio secondo noi molto interessante e molto importante, perché da conto che Mille Miglia non è soltanto la gara, non è stata soltanto la corsa, ma è stato un fenomeno culturale. È stato un fenomeno culturale che ha visto coinvolto chi ha progettato quelle auto, chi le ha costruite, chi le ha messe sul mercato, chi è stato in grado di celebrarne la valenza tecnologica e soprattutto celebra coloro i quali misero quelle auto nelle condizioni di riunificare un tessuto quale era il nostro territorio nazionale, in cui si parlavano tanti deletti e poco italiano. Oggi un museo credo che possa essere la sede più adatta per celebrare attraverso la bellezza di queste auto quello che è stato il lavoro dell'Automobile Club di Brescia, di tutti coloro che operarono fra il 27 e il 57 per realizzare la corsa, di coloro i quali oggi continuano a perpetuarne la bellezza, celebrando la manifestazione della Mille Miglia. Sono delle ricerche per le quali dobbiamo essere grati all'iniziativa assolutamente privata del nostro curatore, il signor Binelli, il quale è andato a ricercare e ad accreditare sul piano storico, quindi con elementi provatoriamente inoppugnabili, quelle che sono state leate o che parteciparono alla Mille Miglia storica.